Buongiorno, siamo a venerdì, bentornati nuovamente nel mio box 195 qui a Bari. Oggi lavoriamo un attimino su un piccolo test, un test di corsa, run test. Questo perché ogni tanto fa sempre bene comunque capire il nostro livello di fitness e quindi metterci alla prova. Incominciamo da un warm up che prevede l'utilizzo di un form roll per 15 minuti. Quindi andiamo a utilizzarlo lungo tutta la zona dorsale, schiena, zona lombare per poi passare anche alla zona di sotto, quindi gambe e parte laterale. Dopo questi 15 minuti di utilizzo del form roll andiamo a effettuare uno stretching dinamico. Quindi andiamo ad allungare tutta la zona delle gambe e successivamente andiamo a eseguire delle rotazioni per la parte alta del corpo in avanti e indietro per sciogliere un po' le braccia. Continuiamo il nostro warm up con un 600 metri di corsa, 10 burpees e 15 squats per due round. Successivamente abbiamo un 10 minuti di rest per poi partire con il nostro test. Test di oggi composto così da 2 miglia di corsa, quindi saranno all'incirca 3,6 km in cui daremo il più possibile per ottenere la nostra migliore prestazione. Una volta terminato il nostro test di corsa, rientriamo al box, ci prendiamo il nostro tempo di recupero totale perché andremo a eseguire il nostro workout del giorno composto così. 5 minuti amrap di 50 double unders, 12 box jump e 7 bar. Con oggi terminiamo la nostra settimana di allenamento. Vi ricordo che CrossFit 195 è a Bari in via Cifarelli 28 Barra. Saremo aperti per tutto il mese di agosto, quindi vi aspettiamo numerosi. Buon divertimento! Buon divertimento! Grazie.